Se non succede qualcosa di veramente anomalo e assodato che le 15 di settembre noi partiremo tutti quanti in presenza. Il problema sarà eventualmente successivo, cioè a ottobre, novembre, in caso di alcuni focolai, che cosa fare? Ma credo che non si riproporrà la situazione dell'anno precedente. I vaccinati sono tantissimi, stanno rispondendo tantissimo anche i ragazzi all'ultima campagna di tamponatura, cioè di tamponi rapidi svolti all'Iceo Scientifico recentemente. Ho visto una coda di giovanissimi e passando fra loro ho sentito loro stessi dire ma se ci fosse stata la possibilità di vaccinarci stamattina ci saremmo vaccinati. Non avremmo fatto il tampone. Quindi è evidente che c'è una risposta diversa da parte degli adolescenti, da parte dei giovani, una risposta più consapevole sul quale noi contiamo per poter effettivamente passare un anno scolastico più sereno rispetto a quelli che sono stati gli ultimi due.